Dove hai detto che mi ha colpito il fulmine sette volte? Una volta mentre riparavo il tetto. Una volta mentre andavo a ritirare la posta. Dove hai detto che mi ha colpito il fulmine sette volte? Una volta mentre ero nel campo a pascolare le vacche. Dove hai detto che mi ha colpito il fulmine sette volte? Una volta mentre guidavo pensando agli affari miei. Te l'ho mai detto? Mi ha colpito il fulmine sette volte. Una volta mentre portavo a passeggio in campo.